Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video oggi voglio parlarvi di 12 errori che forse neanche voi sapete di commettere con il vostro iPhone non preoccupatevi, non sono errori gravissimi più che altro sono delle cattive abitudini oppure delle funzionalità che neanche conoscevate in grado di facilitare alcune operazioni non vi rubo altro tempo, iniziamo poi a fine video mi fate sapere se conoscevate qualcuno di questi problemi e se anche voi sbaiavate la prima funzione, il primo errore di cui voglio parlarvi è il live text come ben sapete da iOS 15 c'è la possibilità di introdurre in modo automatico del testo estraendolo da un'immagine andiamo a fare un esempio e vi faccio dire anche un errore molto comune ad esempio se adesso andiamo a introdurre del testo la maggior parte delle persone tocca qui e avvia la fotocamera per il live text ora cosa accade? accade che avrete solo questa parte in basso per inquadrare il testo e molte persone si lamentano giustamente perché è troppo piccola e non vedono tutto ma semplicemente non tutti sanno che basta fare uno swipe verso l'alto in questo modo e la fotocamera sarà ingrandita e avrete un angolo di visione ottimale e migliore per poter inquadrare il vostro testo un altro errore molto comune e del quale vi parlo spesso è quello di non chiudere le app in background le app in background sono quelle che vedete qui e praticamente la maggior parte delle persone per anche un'azione compulsiva inizia a chiudere tutto in questo modo è sbagliato è sbagliato per un motivo molto semplice perché le app in background non consumano batteria o meglio consumano più batteria se le chiudete e le riaprite perché ogni volta il vostro iPhone dovrà andare a caricare tutto il contenuto vi faccio un esempio vi faccio un esempio ecco cosa succede se apriamo Safari poi lo mettiamo in background e riapriamo l'app guardate velocissima cosa capita se invece chiudiamo? chiudendo Safari e riaprendolo guardate è più lento nel caricamento dunque non chiudete mai le app a meno che non si sta rallentando il vostro telefono lasciate sempre le app in background aperte ne beneficerà anche la vostra batteria e restando sempre in tema batteria un'altra leggenda da sfatare un altro errore molto comune è quello di abilitare il risparmio energetico anche oltre il 20% di batteria non c'è nulla di male nel farlo però molte persone erroneamente credono che questo possa migliorare la batteria del proprio iPhone in realtà anche se leggermente va a preservare la batteria in realtà i benefici sono molto in meno di quello che troviamo sull'altra faccia della medaglia perché abilitando il risparmio energetico non andrete ad aneggiare la batteria andrete leggermente, lo ripeto, a beneficiare di batteria ma cosa farete? farete anche in modo tale che il vostro iPhone sia molto più lento infatti le prestazioni vengono diminuite perché quando attivate il risparmio energetico iPhone entra in uno stato in cui le performance vengono ridotte e quindi è come avere una Ferrari e usare un impianto a metano un altro errore molto comune riguarda le notifiche molte persone odiano ricevere delle notifiche da alcune app in determinate situazioni o momenti e cosa fanno? Erroneamente entrano nelle impostazioni dell'iPhone vanno su notifiche, cercano l'applicazione e magari disattivano le app per impedire che escano qui in realtà il modo più semplice e più sicuro è quello di fare uno swipe a sinistra andare sulle opzioni e scegliere di disattivare le notifiche per un'ora oppure oggi potete fare lo stesso anche con ad esempio Whatsapp o altri tipi di notifiche che vi arriveranno perché fare questa cosa con le opzioni tramite swipe? perché può capitare che se disattivate invece tramite le impostazioni dell'iPhone le notifiche o un badge di notifica vi dimenticherete appunto che avete disattivato questa opzione e vi perderete dei messaggi importanti anche quando in realtà volete ricevere questi messaggi e queste notifiche un altro errore riguarda il volume della suoneria la maggior parte delle persone aumenta e diminuisce il volume tramite i tasti laterali ma non tutti sanno che questo non va a inficiare sul volume della suoneria ma solo sui toni per modificare con il tasto laterale anche il volume della suoneria dovete andare nelle impostazioni scorrere fino a suoni e feedback aptico e qui da suonerie e avvisi modifica con tasti adesso potete regolare il volume della suoneria e degli altri avvisi sempre con il tasto volume in questo modo guardate infatti adesso uscirà questo pop up suoneria che prima invece non usciva un altro errore molto comune è quando siete in auto oppure avete il vostro iPhone collegato tramite bluetooth all'auto o a una cassa bluetooth e cosa succede? mentre state ascoltando la musica arriverà qualche notifica arrivando alla notifica però sentirete che il volume della musica si abbassa perché viene sostituito dal volume della notifica per evitare che tutto ciò accada banalmente basta andare sul tasto laterale della suoneria e del volume e alzarlo quindi togliere la modalità silenziosa in questo modo quando state riproducendo una canzone non riceverete nessun tono di notifica durante la riproduzione ma continuerete a sentire nella stereo della vostra macchina la canzone o nella cassa bluetooth mentre la notifica verrà riprodotta solo dall'iPhone quando dovete aggiungere un widget alla vostra schermata una volta scelto il widget che volete aggiungere ad esempio andiamo in calendario e scegliete quello che più volete beh non dovete toccare aggiungi widget altrimenti ve lo aggiungerà in modo automatico potete tenere già premuto sul widget e spostarlo dove più volete guardate in questo modo sapete già voi dove andare a posizionarlo nella schermata del vostro iPhone e già che ci troviamo vi dico anche un'altra cosa un altro errore comune che spesso molti utenti fanno ovvero che per modificare intere schermate home basta andare nella modalità modifica come ho fatto adesso e toccare sui pallini qui in basso ora potete decidere di nascondere delle schermate in questo modo e avete nascosto una schermata però cosa può succedere? può succedere che voi vogliate capire quale di queste schermate ha delle app che potrebbero interessarvi beh molti utenti cosa fanno? swipe e capiscono cosa c'è e poi vanno ad eliminare la schermata ma banalmente basta toccare sulla schermata relativa per vedere l'anteprima e poi sta a voi decidere quale nascondere oppure addirittura quale rimuovere mi raccomando se rimuovete la schermata verrà eliminata la schermata ma le app su verranno solo spostate nella libreria applicazioni non disinstallate un'altra cosa che molti sbagliano è prendere un'app per spostarla in un'altra schermata e trascinarla in questo modo beh diciamo che questa non è proprio la procedura ideale perché per spostare velocemente un'app o più app basta tenere premuto su di essa e poi usare l'altro dito per effettuare uno swipe tra le varie schermate questa invece è una chicca per quando state riproducendo un video e volete diminuire il volume non andate a utilizzare i tasti laterali perché banalmente basta usare appunto l'icona del volume qui in alto e potrete mutare il vostro suono senza andare a modificare con i tasti laterali tutti i toni e quindi muterete solo questo video tenendo premuto poi naturalmente potete scegliere anche il volume da impostare appunto su questo video e un'altra cosa molto simpatica che non tutti sanno è che voi potete anche usare l'indicatore qui in basso per andare avanti e indietro nel video però guardate come è veloce per rallentare questo movimento allora cosa potete fare? quando tenete premuto qui fate uno swipe verso l'alto e poi guardate spostatevi piano piano a destra o a sinistra a destra o a sinistra avete visto come il movimento è molto più lento e fluido rispetto a questo infine l'ultimo consiglio e anche errore che molti commettono è nella libreria delle app se volete cercare un'applicazione basta toccare qui e molti cosa fanno? digitano giustamente il nome oppure scorrono con il dito fino alla lettera corrispondente beh banalmente per fare prima ragazzi potete fare uno swipe a destra proprio sull'alfabeto guardate come è molto più veloce e rapido oppure se avete un dito abbastanza preciso addirittura toccare sulla corrispondente lettera e spostarvi nella lettera che più vi interessa questi ragazzi erano 12 errori o comunque cattive abitudini che la maggior parte degli utenti utilizzavano con il proprio iphone magari alcune di queste funzionalità erano anche di vostra conoscenza però le usavate in modo scorretto adesso sono curioso di scoprire se con questo video vi ho insegnato qualcosina di diverso o comunque se anche voi sbagliavate qualche operazione come vi ho mostrato quindi lasciate un commento qui sotto e discutiamolo insieme noi come sempre ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi